La Russia ha denunciato numerosi tentativi di sabotaggio delle elezioni nei territori occupati ucraini. A Zaporizia un drone è andato a segno distruggendo un seggio elettorale. Questo fine settimana si sono svolte le elezioni locali in 79 regioni russe, ma anche nelle province di Donetsk, Herzog, Luhansk e Zaporizia, annessi illegalmente nel 2022 e in Crimea sotto il controllo russo dal 2014. I paesi occidentali e Chieva hanno definito il voto nei territori occupati una farza, destituita di qualsiasi valore legale. A Mosca, dove si vota per eleggere il sindaco, è favorito l'attuale primo cittadino. Sergei Sobianin ha vinto due volte le elezioni nella capitale. Nel 2013 sconfisse il leader dell'opposizione Alexei Navalny. Secondo la commissione elettorale, 3 milioni di cittadini hanno votato online e sono stati tentati 20.000 attacchi informatici. Grazie.